Papa Francesco nel suo intervento al Barain Forum for Dialogue ha lanciato un forte appello al dialogo e sollecitato i leader religiosi affinché rifiutino la guerra. Chi è religioso con forza dice no alla bestemmia della guerra e all'uso della violenza. Non basta dire che è una religione pacifica, occorre condannare e isolare i violenti che ne abusano il nome. Definito infattile lo scenario dei blocchi contrapposti nel giardino dell'umanità anziché curare l'insieme si gioca con il fuoco con missili e bombe che provocano pianto e morte, ricoprendo la casa comune di cenere odio.